bene adesso facciamo un esperimento con il telescopio sul sole visto che tanti osservano il sole con filtri non adatti cose non utili qui abbiamo un telescopio rifrattore puntato sul sole un 100 millimetri e qui ho una foglia adesso io avvicino la foglia al telescopio vediamo se riesco a metterla sul fuoco prende fuoco in un attimo pazzesco quindi fate attenzione il sole non scherza vi fate male facilmente soprattutto non non osservate il sole al telescopio se avete filtri adatti e non fidatevi per esempio della nebbia o delle nuvole per l'osservazione perché passa comunque la luce infrarossa va bene c'è una piccola macchia sul sole vi auguro buon divertimento e speriamo che sia la prima di tante altre ciao a tutti